E' il poliziotto dei casi impossibili. Tu sei il male e io sono la cura. E' un duro, è l'uomo delle emergenze. Chiamo il Cobra. Detestato per i suoi metodi, temibile, implacabile. Io vado pazzo per la conversazione. Per il ciclo Action. Cobra, giovedì alle 21, con Iris. In America, there's a burglary every 11 seconds. An armed robbery every 65 seconds. A violent crime every 25 seconds. I ain't no psycho, man! I'm a hero! I'm a hero of the new world! This is... I'm a curse. The Night Slasher preys upon anyone. His victims have included businessmen, Asian immigrants, the elderly, and then one case. Gli davano la caccia. Trovarti ci è costato un sacco di lavoro. Gli assassinavano gli amici. E alla fine gli portarono via l'unica cosa per la quale era pronto a uccidere. E se vuoi rivedere tua figlia, devi collaborare. D'accordo? No. E adesso, in qualsiasi parte del mondo, a qualsiasi costo, qualcuno avrebbe pagato. Tu credi che sarai in grado di procurarci qualche problema? Agirà secondo i nostri ordini. Hasta luego, amici. Bravo, sei divertente. Per questo ti ammazzerò per ultimo. Si decide raccontarmi tutto oppure no? No. Non disturbate il mio amico. È stanco morto. Dove sta andando? L'aiuto a liberarla.